In questa piazza c'è chi, non avendo denaro per vivere, non avendo lavoro, è chiaro di scegliere un re. Ma lei fa davvero? Davvero sceglierebbe un re? Sono sei anni questo qui. E nessuno gliel'ha mai chiesto? No. E i signori che si affacciano da quella porta? Ma quindi non gliene frega niente degli italiani? Non sono mai venuto a chiederle perché sta qua. No. E con tante trasmissioni televisive nessuno è mai venuto da lei. Quindi silenzio assoluto. Lei è uno degli invisibili italiani. Uno dei tanti italiani invisibili. Ciao.